Si avvicina la stagione venatoria, non si spinga oltre fusino. A Grosio ci sono tanti cacciatori e una fucilata casuale potrebbe arrivarle in una gamba. È il consiglio, lo definiscono così gli stessi estensori, contenuto in una lettera intimidatoria indirizzata al sindaco del comune del tiranese Gian Antonio Pini e per conoscenza anche al prefetto di Sondrio e al giornalista locale Paolo Ghilotti. A firmarla un gruppo di grosini che si definiscono delusi e incazzati riuniti sotto un fantomatico comitato grosino per il Morelli. Alcuni di noi hanno familiari che lavorano al Morelli ma tutti crediamo sia demenziale che lei signor sindaco si schieri con chi lo vuol far chiudere. Il motivo delle minacce risiede dunque nella questione riguardante il futuro dell'ospedale di Sondalo su cui il clima si sta scaldando sempre più. Forse a lei hanno promesso un posto in qualche clinica privata, prosegue la lettera al sindaco, ma per tutti gli altri abitanti di Grosio la sorte non sarà la stessa. Il Morelli è una risorsa per la nostra salute e per quella dei nostri figli, oltre ad essere un luogo che dà lavoro a molti compaesani, provi a contarli. Poi la minaccia dal sapore mafioso di un colpo di fucile alle gambe. In tal modo recita la lettera scoprirebbe sulla sua persona quanto impiegherebbe il 118 per portarla in qualche clinica privata del milanese. Non ci spingiamo oltre per ora, conclude la lettera, questo è solo un primo consiglio amichevole. Pini si dichiara profondamente amareggiato, quasi incredulo, scrive perché a minacciarmi è qualcuno di noi che non ha compreso il mio ruolo, le mie azioni e le mie parole. Da sindaco di Grosio e presidente della comunità montana di Tirano, il solo obiettivo che mi pongo dice è quello di lavorare nell'interesse dei cittadini. Come tutti voglio una sanità provinciale di qualità, in grado di rispondere alle esigenze del territorio, con ospedali e una rete di servizi territoriali efficienti. In questo contesto il Morelli riveste un ruolo fondamentale e nessuno di noi o per primo potrebbe accettarne un ridimensionamento. Una posizione chiara che non ammette fraintendimenti, ribadisce Pini, che trae spunto dall'episodio per un monito che scongiuri il rischio di una degenerazione. A prevalere, afferma, deve essere sempre e comunque il confronto aperto e leale tra rappresentanti delle istituzioni. Proprio quello che è mancato negli ultimi tempi, perché quando i problemi si trascinano e non vengono risolti, le parti si allontanano ulteriormente. Purtroppo, quando si alzano i toni in maniera esagerata e immotivata e si arriva anche alle accuse personali, c'è chi trascende e fatalmente arriva alla minaccia più bieca perché anonima. Mi auguro per il bene di tutti, conclude Pini, che d'ora in avanti prevalgano una discussione corretta e un confronto sincero. Da amministratori pubblici abbiamo il dovere di dare il buon esempio, dimostrando anche ai più facinorosi che alla fine una soluzione si trova sempre, la migliore possibile per i nostri cittadini e il nostro territorio. Questo è l'obiettivo.